Persone, spazi, modalità. A Bologna Fiere, la tua fiera è sicura. Per garantire la sicurezza delle persone, a tutti coloro che entrano in fiera, viene misurata la temperatura tramite termoscanner. L'utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutti e sono disponibili numerose postazioni per l'igienizzazione delle mani. Abbiamo incrementato il personale di controllo per assicurare il corretto distanziamento in tutte le aree. Inoltre è presente un presidio medico costante per l'intera durata della manifestazione. Per darti spazi sicuri, abbiamo potenziato la pulizia e la sanificazione di tutte le aree comuni e dei servizi igienici. I visitatori in entrata e quelli in uscita utilizzano accessi separati. Tutti i bar e ristoranti rispettano le regole di distanziamento, prevedono aree riservate per il consumo e pagamenti digitali. All'interno e all'esterno dei padiglioni, i percorsi e le regole da seguire sono evidenziati da una segnaletica informativa diffusa e garantiamo una reazione adeguata con un continuo ricambio d'aria senza ricircolo. Per farti vivere la fiera nel modo più sicuro, incentiviamo l'acquisto dei biglietti online per evitare assembramenti alle biglietterie e monitorare i flussi d'accesso. Effettuiamo un controllo costante della capienza. Tutte le attività, gli stand e gli show sono stati riorganizzati per assicurare il giusto distanziamento. Spettacoli e conferenze prevedono posti limitati, sedute distanziate e gestione dei flussi. Persone sicure, spazi sicuri, modalità sicure. La tua fiera a Bologna Fiere.